la destra è ferma non ha fatto niente berlusconi di fatto va verso il ritiro poi vedremo le modalità con cui lo comunicherà la sinistra ha fatto un tweet che sembra di qui qua e qua se da un lato zio paperone si è ritirato dall'altro qui qua e qua hanno fatto lo stesso tweet lo ha detto il leader di italia viva matteo renzi parlando su radio leopolda commentando i vertici di centro sinistra e centro destra sul quirinale scherziamo sono battute letta conte e speranza hanno fatto bene a non chiamarci da un lato non è il metodo che noi amiamo scegliere un hashtag io vorrei scegliere un presidente la dimostrazione palese è che centro destra e sinistra avranno bisogno di noi ha aggiunto l'ex premier spiegando che domani vedremo i grandi elettori d'italia viva saremo manni tutto fare anziché qui qua e qua e un centro sinistra presunto tale che toninelli ne faccia parte teresa bellanova no è la dimostrazione che da soli non ce la fanno ha aggiunto renzi parlando su radio leopolda noi saremo quelli che cercheranno di comporre il quadro di mettere insieme tutti di farli dialogare di non farli litigare avremo funzione sua dente gentile fra una settimana sarà tutto finito abbiamo bisogno di un presidente della repubblica all'altezza dei nostri sogni per sette anni italia viva alla faccia di chi si lamenta sempre di noi darà una mano come con mattarella sette anni fa e con draghi l'anno scorso